Fantastico, chi è che ha denunciato Asia Argento dicendo che lei aveva effettivamente fatto sesso con un minorenne? Chi è che ha pubblicato sul sito scandalistico gli sms che si erano scambiati in cui Asia Argento ammetteva di aver fatto sesso con un minorenne? La migliore amica di Asia Argento e sua collega nella battaglia di MeToo. Una, si dice gender fluid, non lo so dire bene, cioè una che ha un sesso fluido e che con lei ha fatto questa battaglia contro le discriminazioni sessuali, anche perché con lei è difficile discriminare, non riesci mai a capire, cioè come la prendi la prendi male, ecco, e però come la prendi la prendi come dice oggi Asia Argento sei un mostro, e perché un mostro? Perché Asia Argento le confesse di aver fatto sesso con un minorenne, lei lo manda a un sito internet scandalistico, Asia Argento le chiede via sms perché l'hai fatto, lei dice perché io combatto per la giustizia e lei gli risponde sei un mostro. Voi con queste persone volete avere a che fare? Brava Silvia, ma che gente è? Ma che cazzo di gente è? Noi veramente vogliamo affidare diritti civili del futuro? Noi veramente vogliamo affidare diritti di libertà a Asia Argento e alla gender fluid, gender fluid, coi capelli corti fidanzata con un uomo e che denuncia l'amica e poi quell'altro che invece gli vende le foto a 29... Io direi che su questo l'unico commento che sarebbe da fare è MeToo oggi, sapete che cos'è? Un insulto. MeToo è un insulto, non c'è nulla di peggio che dire una persona MeToo, cioè tutto attaccato con l'hashtag, e quando tu senti quella roba lì, scappare!